Idea web con Mariko Longobardi, schiacciatrice dell'EPM Bambondo V, finita da pochi minuti la partita contro l'Itastrentino contro la capolizza. Mariko una sconfitta per 3 a 1, però c'è più il rammarico della sconfitta, più la soddisfazione tra virgolette di aver lottato alla pari contro una squadra così forte. Sì, ciao a tutti, ma guarda, secondo me è più il rammarico perché soprattutto l'ultimo set si poteva fare tranquillamente, poi loro, nulla da dire sulla loro bravura, sulla loro qualità, hanno spinto molto, erano molto pronti su tutti i palloni, però nonostante questo, come hai detto tu, diciamo ci portiamo a casa la bella prestazione che abbiamo fatto. Secondo te anche questa prestazione, comunque tutti questi set lottati fino ai vantaggi, possono essere una spinta in più anche per le prossime partite, una coscienza acquisita di poter giocare con tutti? Sì, questo assolutamente, infatti rispetto all'andata si è visto assolutamente una squadra completamente diversa, abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo difeso, abbiamo contraattaccato, quindi diciamo che il rammarico c'è come ogni partita che viene persa, ma nonostante questo abbiamo giocato una grande partita secondo me. Grazie mille. Grazie.